Grazie, pomeriggio di appunti, poi ti whatsappano i giornalisti, ti chiedono non un commento a quello che si è sentito, porti, aeroporti, strade, ferrovie, trasporto ultraveloce delle merci, Ministero del mare, un'Italia straordinaria, poi ti chiedo un commento a Letta che dice Salvini deve chiarire perché non vuole più stare al governo, ma come cazzo? Sono qua il lunedì pomeriggio, c'è la festa del Milan in corso e io sono qua a parlare dei porti, è la Diga, è la Gronda, è la TAV, è la TAP e Letta dice che non ci abbiamo voglia di stare al governo, non voglio criticare ma se c'è qualcuno, e i genovesi lo sanno, che incredibilmente si era opposto al modello Genova, citofonare Letta, citofonare PD, senza nessuna... però così va il mondo della comunicazione. Ho preso qualche appunto e siccome non abbiamo tempo né da far perdere, visto che qua dentro penso che ci siano pochi erediti di cittadinanza, né da perdere, questi 20 eventi di ascolto li organizziamo il lunedì o il venerdì, fra maggio e febbraio prossimo, perché per la prima volta abbiamo l'ambizione di costruire un programma di governo, non a tavolino con i tecnici, cosa che è assolutamente dignitosa e rispettabile, ma anche aprendoci all'ascolto di persone che non necessariamente sono politicamente allineate. Io non so le 20 persone che oggi si sono susseguite e le ringrazio perché hanno tolto tempo all'azienda, al lavoro, non so cosa votino e non mi interessa. Che cosa votano però? Abbiamo preso degli spunti, sentire un consigliere di Stato dire, e per me è ossigeno, il codice degli appalti non è riformabile, è un mostro incorreggibile e allora vuol dire che bisogna capire in che direzione andare. Poi Genova è particolare per mille motivi, quando ci incontrammo con Marco e parliamo di fare il sindaco, nessuno pensava che saremmo arrivati fino a qua, ci siamo, ci siamo arrivati e andremo anche molto più avanti, perché io penso che Genova sarà una delle città dove il centrodestra aveva il risultato più straordinario in Italia stravincendo al primo turno, quindi qua il ballottaggio non lo vediamo neanche da lontano e abbandono le scaramanzie. Perché Marco, la Lega e la squadra di governo si presentano dopo cinque anni con delle cose fatte, ovviamente con nel cassetto dei progetti delle cose da farsi, però un sindaco che dopo cinque anni si presenta dicendo solo faremo non è credibilissimo. Io ricordo quei drammatici momenti di quella stramaledetta estate che ancora adesso piangiamo e ricordo la fatica che facciamo in Consiglio dei Ministri per imporre il modello che oggi a detta di tutti è vincente. Mallo e col senno del poi sono bravi tutti. Allora quando insistevamo su un modello straordinario con poteri straordinari all'uomo solo al comando, apriti cielo ai sindacati, alla corruzione, all'anticorruzione, alla mafia, gli incidenti sul lavoro, i ritardi, chissà poi cosa succede, chi vince gli appalti. E invece managerialmente diciamo qua se seguiamo le normali regole fra vent'anni siamo ancora in fase di progetto preliminare e a Genova vanno in giro col carellino. Invece abbiamo scelto un uomo solo che poi se fa applausi, se non fa cambia mestiere e anche su quell'uomo solo c'è stato un dibattito ario ed eventuale ampio ma perché il sindaco? Poi il sindaco è di parte, grazie che il sindaco è di parte, non è che sia stato estratto a sorte il sindaco, però è interesse dalla città avere un'infrastruttura. E' andata, però è andata non solo per il ponte che però è emozionante ogni volta che da milanese arrivo a Genova sapere cosa è costato e sapere come ci è arrivato. Però la diga, il waterfront, poi io sono puntiglioso, le case popolari di Begato per me hanno la stessa importanza della diga o del waterfront, cioè una città aperta come tutte le città di porto accogliente per chi vuole e merita accoglienza, generosa, solidale per chi poi ti ricambia quantomeno con un grazie questa solidarietà. Anche il centro storico piano piano sta cambiando faccia, sta cambiando volto, investendo sul commercio. Mi ha molto affascinato l'idea del trasporto ultraveloce nei tubi dei pacchi e magari faranno cambiare idee anche a me perché io sono l'anti Amazon, ma lo dico con tutto nel senso che quando mio figlio ordina su Glovo io mi incazzo, ma andiamo al bar, andiamo al negozio, andiamo al ristorante perché io preferisco l'artigiano vero all'artigiano online. Però questo è il futuro e ovviamente, ma lo dico da ex ministro interno perché il negozio è sicurezza, la luce è sicurezza, la bottega nel centro storico di Genova è sicurezza. Se tu spegni le luci e vivi online abbiamo finito di vivere, non siamo più a essere, è un'altra roba. Mi hanno detto che è cominciato anche il campionato di calcio sul metaverso, quello virtuale, a me basta aver vinto quello reale. Poi chi vince nel metaverso non... Altri temi, il ponte sullo stretto di Messina non sarà il core business per l'attuale e il prossimo sindaco di Genova, però pensate per l'ingegneria italiana nel mondo, come il ponte di Genova è diventato un modello da studiare sia come procedura che come bellezza che come rispetto della tempistica, zero ritardi, zero morti sul lavoro, zero tangenti, zero che per l'Italia è una roba da studiare, ma pensate avere gli ingegneri italiani che sono i migliori al mondo, i geometri, i manovali italiani, dedicarsi alla costruzione del più grande ponte del mondo che collega un pezzo di Italia con l'altro pezzo di Italia, perché noi abbiamo sentito parlare delle tratte Roma, New York, però è vero, tu vaci da Trapani a Siracusa, Catania, Messina e siamo in Italia nel 2022, altro che direttive europee, quindi bisogna osare. Però qua c'è ancora qualcuno che dice no al termovalorizzatore a Roma e anche no ai termovalorizzatori in Liguria. Ovunque nel mondo i rifiuti diventano energia, ricchezza e ambiente pulito. Chi dice no ai termovalorizzatori nel 2022 è da ricoverare perché vive su un altro pianeta, vive su un altro pianeta. Ma lo stesso discorso, siamo in emergenza energetica vale per il nucleare. Siamo fra i pochissimi paesi del G20 in scarsa e residuale compagnia che non produce un megawatt con l'energia nucleare. Siamo circondati, 400 reattori attivi al mondo in questo momento, più di 100 in Italia, in Europa, noi no. Perché? E c'è il Notav, quante notate, non so chi parlava del rapporto costi-benefici e lì c'erano i tecnici che ci spiegavano che era più conveniente riempire con della pietra un buco sotto la montagna che andare avanti a scavare il buco sotto la montagna. E abbiamo dovuto fare ore, ore, ore di... E inotav, e inotap, e inogronda, e inoqui, e inolà. Lo dico al signor Letta, la Lega è per i sì. L'Italia è stata fermata per troppi anni dai signornò su tutto. Abbiamo bisogno di sì. Altrimenti, altro che dipendenza. Mi messaggiava adesso un esperto di materie prime. Abbiamo parlato di materie prime. Avete parlato di materie prime. La Cina oggi ha già accumulato l'ottanta per cento del rame al mondo. L'ottanta per cento. Cioè se domani qualcuno... L'India, poche ore fa, ha messo i dazi sull'export dell'acciaio. Ucraina e Russia da sole fanno il cinquantaquattro per cento della produzione di grano che va a nutrire il continente africano. Ci sono duecento milioni di persone a rischio fame, non a rischio... Qua c'è, si sente il caro spesa. L'inflazione, se vai a fare la spesa all'Esselunga, a Genova, e dico Esselunga apposta, evidentemente con i cento euro... Però è chiaro che l'italiano adesso con lo stipendio di prima e con la pensione di prima, se prima con cento euro riempiva il cappello a livello dieci, adesso lo riempie a livello otto. L'inflazione al sei per cento significa che se uno ha centomila euro sul conto corrente a fine anno rischia di averne settantamila. Quindi per noi è un problema, evidentemente. In Senegal, in Namibia, in Egitto e in Congo non avere grano non è un problema di riempimento del carrello, è un problema di sopravvivenza. E quando hai duecento milioni di persone che non hanno da mangiare, a cui non puoi dar da mangiare un fucile o un dollaro, perché non sono digeribili, indovinate voi queste duecento milioni di persone per sopravvivere dove vanno e dove mirano ad andare. Quindi fermare la guerra adesso non è un ghieribizzo, fermare la guerra adesso è un dovere morale. Primo, per salvare vite in Ucraina e in Russia. Secondo, per salvare milioni di persone nel continente africano. Terzo, ma non ultimo, per salvare migliaia di posti di lavoro in Italia, altrimenti gli operai a settembre stanno a casa. E noi abbiamo il diritto di difendere l'interesse nazionale italiano. Il Ministero del Mare, ci riproviamo, perché poi lo dicono tutti i fascichi in campagna elettorale, fa figo, perché magari vai a Belluno o no, però vai a Spezia, vai a Civitavecchia, o vai a Gioia Tauro, è chic dire, noi vogliamo il Ministero del Mare, poi vai a vedere negli anni, noi siamo testoni, ci riproviamo. Il Ministero, un sottosegretariato, una responsabilità ad hoc, perché quello che mi conforto oggi ho sentito è che più sono le persone che devono decidere su una questione, più questa questione ha la garanzia di essere risolta. Quindi una persona che risponda nel mene e nel male di quello che bisogna fare. Sul codice degli appalti mi era sfuggito il passaggio, non riesco a seguire tutto, della delega al Consiglio di Stato. Noi siamo qua oggi a occuparci dei balneari per sta benedetta sentenza del Consiglio di Stato. Ma non è che noi facciamo perdere tempo alla gente, così per un ghiribizzo. Poi peraltro io adoro la montagna. Però ci sono 30.000 piccole imprese. Noi vorremmo semplicemente garantire ai piccolini che col mare sopravvivono, non si fanno la terza villa a Portofino, sopravvivono, a poter continuare a lavorare come facevano i loro padri, i loro nonni su quella spiaggia, lasciando ai loro figli un'attività artigianale. Non stiamo parlando di quelli che hanno 20 stabilimenti in Costa Smeraldo a Forte di Marmi. Stiamo parlando dei piccolini. Poi in spiagge come quelle della Liguria, voglio dire, che il buon Dio ha definito abbastanza particolari, complicate da gestire, dove trovare la sabbia è un miraggio. Quindi difendere questo modo di vivere prima ancora che di lavorare è un dovere. Io sono convinto che arriveremo a una buona mediazione, ringrazio il senatore Repamonti, così come siamo arrivati a una buona mediazione sul Catasto, perché far emergere un milione di case fantasma è sacrosanto, ma aumentare le tasse sulla casa sarebbe assolutamente fuori dal mondo. Vado via con la preoccupazione dei 1900 ponti ad alto rischio, su cui non si può far finta di niente. Vado via con la gioia della consapevolezza che Ferrovia abbia 190 miliardi di investimenti a bilancio nei prossimi dieci anni. Ci vediamo fra dieci anni, sono ottimista per natura e poi spero che ne abbiano spesi 189 e mezzo, ma non per colpe, ma perché l'abbiamo visto, il tempo medio dell'appalto, il secondo arrivato ti fa ricorso di default. Apro e chiudo la parentesi, pubblicità progresso, il 12 giugno oltre alla scheda per eleggere il sindaco di Genova ci sono i cinque referendum sulla giustizia per provare a snellire, perché la burocrazia è un nemico, la fiscalità è un nemico, ma io conosco diversi imprenditori stranieri, diversi fondi di investimento che sarebbero pronti a venire in Italia domani, ma è chiaro che quando il lunedì mattina si alza un PM che ti affre un fascicolo e ti blocca l'azienda è complicato, puoi sentirsi dar ragione dopo un po'. Parlavamo di acciaio, l'India blocca, mette dei dazi sull'export dell'acciaio, noi siamo ancora qua con i signornò a Ilva e a Taranto e a Piombino che rischiano di fare danno, perché noi siamo, è vero che ci sarà una stagione turistica eccezionale, perché molti italiani rimarranno in Italia, perché molti stranieri stanno tornando, però noi siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa e quindi senza acciaio e senza energia non vai lontano. Io adoro la focaccia al formaggio, ma non possiamo campare solo di focaccia al formaggio evidentemente, noi siamo un'eccellenza dal punto di vista industriale, io vedo tanti assessori alle infrastrutture, ringrazio, fatemi ringraziare le donne e gli uomini della Lega che fanno questo compito dalla mattina alla sera, mettendosi a rischio, garantendosi almeno tre avvisi di garanzia. Almeno, no? Qua c'è ad esempio, vedo l'assessore, ma fatevi anche vedere dagli operatori, perché magari non siete volti televisivi, ci sono gli assessori, vedo del Veneto, della Lombardia, dell'Umbria, alzatevi un attimo. Tre donne su quattro assessori, tre donne a occuparsi di infrastrutture, ma non eravamo un partito maschilista, sessista, discriminato, basta che siate fluide, l'importante è così almeno copriamo tutte le... non la faccio lunga perché è tardi. Ringrazio Marco Bucci perché adesso va... ma non deve neanche dire, con quello che ha fatto Marco, con quello che ha fatto la squadra della Lega e dell'amministrazione a Genova, non c'è neanche bisogno di andare a chiedere i voti, penso. Io di solito sono scaramantico, però quando le cose le tocchi con mano è poi... è difficile. Quindi grazie, la voce che ho oggi è quella che mi è avanzata da Reggio Emilia ieri con mio figlio, però vale doppio. Quindi ci rivedremo a Genova, non è solo una cosa di forma ma è di sostanza, l'ho detto a Edo, l'ultimo giorno di campagna elettorale che per i segretari di partito è quello più importante per dare i messaggi finali, io lo passerò a Genova, perché è una città a cui sono legato particolarmente e perché... Visto il sistema infrastrutturale mi potrò permettere un Genova-Alessandria, penso, senza calibrando dei ritardi minimamente e umanamente, già il Genova-Cuneo sarebbe complicato, mi accontento del Genova-Alessandria. No, grazie, ripeto, l'iniziativa di oggi non siete cavie, però siete i primi, nel senso che questa operazione di ascolto, ascoltiamo il Paese, noi proviamo a costruire con le associazioni, con Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Col Diretti, Confagricoltura, GGL, CIS, Willi, il terzo settore, le professioni, gli ordini professionali, noi proviamo a fare qualcosa di nuovo nell'ottica dell'ascolto, proviamo a raccogliere, certo si fa più fatica perché stai quattro ore, io come voi, qua a capire, poi in Liguria abbiamo parlato di infrastrutture, probabilmente in Calabria parleremo di turismo, in Piemonte di agricoltura, in Lombardia di innovazione, quindi ciascuna delle venti regioni avrà il suo target e poi anch'io come segretario proverò a chiedere dei risultati, perché un Paese così complesso, così bello, così articolato, 7.900 comuni, di cui 5.500 comuni italiani sotto i 5.000 abitanti, quindi stiamo qua a parlare di Genova, il PNRR, la resilienza, ci ho messo sei mesi a capire la resilienza, però Genova, Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, 5.500 comuni italiani, sentivo parlare di burocrazia, di Consiglio di Stato, hanno meno di 5.000 abitanti, e tanto se hanno il segretario comunale, e tanto se hanno il geometra, e tanto se hanno... ci sono sindaci della Lega che la sera prendono la paletta e fanno i comandanti della polizia locale, quindi c'è da sistemare l'albo dei segretari comunali a proposito di semplificazione, c'è da accelerare la possibilità di assumere non l'unione dei comuni, ma l'associazione nello svolgimento di alcuni servizi, quindi da fare ce n'è tanto. Abbiamo ancora a ingombrare il percorso, qui squiglie come la pandemia, che ancora scomparsa non è, poi per essere ottimisti c'è la peste suina, e ringrazio il buon Francesco Bruzzone, perché chi non sa di che cosa si stia parlando? Pare che arrivi il vaiolo della scimmia, io non so più cos'altro dobbiamo... è veramente una roba, è un periodo... è la guerra, e chiudo con questo, la guerra perché pace non significa adesso scendere, togliersi giacca e cravatta, andare nei caruggi facendosi un cannone con la bandiera della pace, peace and love, no, pace va studiata, va costruita, per costruirla devi avere un tavolo, perché se ci sono due che si stanno sparando, ben sapendo chi ha cominciato, sempre perché devi fare la premessa d'obbligo, se no ti accusano, sei amico di, cugino di, uno attaccato e uno è stato attaccato, uno è stato aggredito e l'altro è stato aggredito. Fatto salvo questo, domani è il terzo mese di guerra, contiamo alcune decine di migliaia di morti, contiamo, ripeto, il blocco del raccolto e della semina, perché Ucraina e Russia sono quelli che sfamano il mondo, se però non raccogli quello che hai seminato non puoi seminare, e se non semini adesso non raccogli a settembre, e quindi non occorre uno scienziato per intuire che nell'arco delle prossime settimane rischiamo la catastrofe, non entro nel merito del conflitto nucleare, del missile sbagliato, dell'aereo sbagliato, al posto sbagliato, no, parlo proprio di quello che è scritto, di una catastrofe a livello planetario, con un esodo biblico che al confronto agli sbarchi di Lampedusa, seppur eccessivi, sono qualcosa che viene dimenticato, quindi fare la pace significa ragionare con i due che se le stanno dando, poi saranno loro due a decidere qual è il punto d'incontro, se c'è il punto d'incontro, perché i giornalisti ogni tanto mi chiedono, ma secondo lei Zelensky cosa dovrebbe chiedere, Putin cosa dovrebbe dire, io non sono né Zelensky né Putin, il mio dovere di politico e di uomo è fare il piccolo che posso fare, per metterli intorno a un tavolo, poi se la risolvono loro, non è questione del sindaco di Genova, di Salvini, della Nato o di qualcun altro, sono loro che però si devono sedere intorno a un tavolo, perché fino a che si sparano è difficile farli sedere intorno a un tavolo, quindi costruire la pace penso che sia non un diritto, ma un dovere di tutti, siccome c'è qualche mio collega politico parlamentare che parla con semplicità e scioltezza di armi e di guerra anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma se la guerra va oltre, ragazzi qua non c'è da parlare di waterfront, di diga o di gronda, qua non ce n'è per nessuno, quindi è obbligatorio per chiunque abbia coscienza e responsabilità umana e politica fare tutto per fermare la guerra adesso prima che sia troppo tardi, facendo tutto il possibile, facendosi carico anche di accuse di tutto quello che volete, però c'era uno scrittore cileno che ha scritto un librettino, librettino, sminuisco, un libro bello in cui un gatto insegnava a volare una gabbianella, che è una roba abbastanza improbabile e la lezione del tutto è che vola solo chi osa farlo, non è il momento dei pavidi, non è il momento dei vigliacchi, non è il momento dei paurosi, dei timorosi, è il momento in cui occorre fare delle scelte di precisa responsabilità, si può vivere o commentando la vita degli altri o vivendo in prima persona e assumendosi delle responsabilità di far bene o di sbagliare. Ecco, Genova, la Liguria, l'Italia hanno bisogno di persone che sono pronte ad assumersi delle responsabilità, non abbiamo bisogno di commentatori del bar sport o di odiatori o di invidiatori di professione. Fare, fare e fare è la nostra missione. Buona fortuna, viva Genova e viva la Lega! Grazie a tutti!